Buongiorno a tutti, io sono Maria Cristina Dalla Pozza, sono una biologa che opera all'interno dell'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie. Non so se conosciate questa realtà, comunque si tratta di una rete di istituti che copre tutto il territorio nazionale e il mio in particolare, come dice appunto il nome, copre tutto il territorio del Triveneto, quindi a partire da Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, fino ad arrivare a Treviso, Udine, una decina di sedi periferiche e si occupa, questo ente, di operare in ambito di sanità animale, in ambito chimico e moltissimo per quanto concerne la sicurezza alimentare, quindi sia nell'ambito diciamo ufficiale che non. Ecco, io in particolar modo all'interno del mio istituto lavoro proprio nel dipartimento che si occupa di sicurezza alimentare prevalentemente in ambito ufficiale, quindi quello che noi facciamo è di prendere in carico tutti i campioni che ci vengono conferiti dalle autorità competenti nell'atto delle loro appunto pianificazioni e svolgiamo un'attività di diagnosi dei patogeni alimentari, quindi cerchiamo all'interno di questi campioni la presenza di eventuali contaminazioni microbiologiche con approccio microbiologico e moltissimo anche molecolare perché sappiamo che ad oggi ormai l'approccio dei metodi è molto promiscuo e quindi non è più solo di un tipo, in alcuni contesti è prettamente molecolare, basti pensare alla diagnosi dei virus enterici e anche perché di fatto al di là di quelle che sono le contaminazioni microbiologiche ci concentriamo molto anche sulle indagini rivolte agli organismi geneticamente modificati, quindi sugli alimenti, sui mangimi e svolgiamo le attività finalizzate alla verifica delle frodi alimentari, quindi anche sempre con approccio molecolare la verifica di appartenenza di specie nelle carni. Ecco questa è l'attività che noi svolgiamo. Chiaramente controllo ufficiale implica per definizione accreditamento, quindi siamo assolutamente un laboratorio accreditato anche se ovviamente l'ambito alimentare ormai da tempo lo prevede, lo prevede anche al di fuori quello che è il contesto ufficiale. Di che cosa vi parlerò oggi? Allora farò una panoramica perché alla fine i tempi consentono questo, sull'utilizzo dei ceppi microbici di riferimento certificati in ambito microbiologico e aggiungerei l'accezione alimentare a questo punto perché è importante, perché effettivamente l'ambito alimentare, e io lo tocco con mano perché da noi c'è anche l'ambito rappresentato dalla sanità animale. Quello alimentare è sicuramente un ambito molto molto più blindato e strutturato proprio dalla presenza di tutte queste norme che la collega ci ha ampiamente descritto in un contesto e che vedremo, mi fa piacere che l'abbia fatto perché anch'io ho un po' con questa impronta di essermi riferita molto alla presenza, dove era possibile farlo, delle norme, finché fosse possibile capire le informazioni che origine avessero e quali fossero le implicazioni poi nell'utilizzo, nel caso specifico di quello di cui parlerò oggi. Quindi che cosa approfondiremo? Di che cosa si intende? Quindi dare una definizione di questo, come vengono gestiti e quali sono gli utilizzi in ambito microbiologico, gli utilizzi principali. Ho scelto un paio di contesti perché ovviamente i tempi non consentivano di più. Allora intanto definizioni, allora qui dicevo mi sono riferita ad alcune norme perché ovviamente questi termini sono molto ricorrenti, però si parla di materiale sufficientemente omogeneo e stabile, quindi l'ho sottolineato questo concetto perché l'omogeneità e la stabilità rispetto a proprietà specifiche è proprio un requisito importantissimo che li caratterizza e che sono appunto poi caratteristiche che devono essere conformi, idonee a quelle che poi l'applicazione che se ne vuole fare. Poi si trova anche la definizione di materiale di riferimento certificato e qui subentra un altro concetto, cioè quello dell'essere accompagnato da un documento, quindi un certificato rilasciato da un organismo di confacente autorità. Anche qui è molto importante il concetto di certificazione, come vedremo perché è da lì poi che parte la valutazione del materiale che noi prendiamo in considerazione. Altre definizioni ancora in altre ISO, in questo caso la 11.133, ci dice, addirittura introduce il concetto dell'associazione nella definizione del microrganismo, del materiale, del WFCC, cioè la World Federation of Cultural Lectures Number. Praticamente come vedremo poi è la verifica da parte di questa associazione internazionale che attribuisce un'univocità di definizione, ma lo vedremo successivamente nelle prossime slide. E ancora appunto il concetto di rivitalizzabilità, quindi si definisce un materiale di referenza contenente una quantità di microrganismo rivitalizzabile, quindi è la possibilità di rivitalizzarlo, vedremo poi cosa si intende. E ancora rivitalizzabile accompagnato da un certificato. Diciamo che in senso lato tutte queste definizioni delle norme internazionali danno indicazione di un materiale rigidamente codificato e verificato a garanzia soprattutto dell'omogeneità e della stabilità, come abbiamo detto prima, perché nelle applicazioni che vedremo sono prerequisiti che sono assolutamente imprescindibili. Poi si parlava anche di collezioni, perché ovviamente nel tempo per poter conoscere, studiare, utilizzare questi microrganismi ci si è posto il problema anche di saperli coltivare e conservare adeguatamente. Quindi nel tempo sono proliferate delle collezioni, inizialmente effettuate da centri universitari specializzati e poi pian pianino si è passati alla gestione da parte di enti governativi, istituti industriali di larga scala, che hanno creato delle proprie collezioni di microrganismi e ceppoteche, proprio per creare un punto di riferimento che fosse istituzionalizzato. Cos'è una collezione di microrganismi o una ceppoteca? Alla fine è un vero e proprio archivio in cui queste cellule, che sono cellule microbiche, sono ottenute da culture che hanno delle caratteristiche molto puntuali, molto definite, vengono garantite, conservate in vere e proprie biobanche, biobanche a disposizione dell'utenza. Quindi nel tempo sono proliferate queste collezioni, quindi a livello internazionale ne troviamo di svariati tipi. La TCC sicuramente è quella più nota, forse, che è l'American Type Culture Collection, è un'organizzazione che conta migliaia e migliaia di microrganismi di ogni genere ed è anche quella che poi rilascia certificazioni per conto di enti minori, quindi è veramente un'istituzione. Però poi in ambiti locali, cioè differenti anche a livello internazionale, si sono chiaramente creati delle associazioni parallele con lo stesso fine, quindi l'NCTC che sicuramente nota, che è quella analoga inglese, la CECT che è quella analoga spagnola, anche questa molto fornita, molto importante, che appunto consta migliaia di microrganismi sempre di ogni genere. Poi la realtà tedesca, che è la DSMZ, quella belga, quella svedese, ho inserito anche quella giapponese, ma ripeto, sono ancora esempi di realizzazioni a livello locale che hanno comunque tutta la stessa finalità. Cosa garantisce, come dicevamo prima, l'univocità delle informazioni? E abbiamo trovato questo concetto anche in una delle definizioni date della ISO in riferimento al materiale di riferimento. L'esistenza proprio della Federazione Mondiale per le Collezioni Culturali, che è un punto di raccolta di tutte queste informazioni. Significa che milioni e milioni di culture batteriche vengono censite e sono gestite a livello informativo, intendo, da questo ente a cui tutte le varie cipoteche internazionali fanno riferimento. Quindi la presenza di questo World Aid Center for Microrganism Committee, che ha un database, chiaramente, attribuisce ad ognuno di questi ceppi, a prescindere dalla cipoteca da cui proviene, un numero che gli dà una garanzia di reperibilità univoca. E questa è una caratteristica importantissima, abbiamo trovata nella definizione, poi la vedremo anche nell'uso, poi nell'utilità, viene spesa proprio nella valutazione del ceppo che si sta gestendo. La vedremo collocata in una delle ISO che poi prenderemo in rassegna, che tratta appunto dell'utilizzo dei ceppi microbici. Allora, per quanto riguarda la gestione di questi ceppi di riferimento, diciamo che in senso lato l'approccio che può avere un laboratorio che li deve utilizzare può essere differente. Quindi può essere che sia un utilizzo all'uso, cioè prendo questo materiale di riferimento, lo utilizzo al fine contestuale, contestualmente a quello che sto facendo e poi lo lascio. Oppure può essere che i laboratori decidano anche di farne una propria gestione, quindi di assumere questo materiale e di realizzare internamente delle proprie ceppoteche. Nel fare questo, quello che comunque il laboratorio deve sempre ricordarsi e avere attenzione di fare è di valutare attentamente l'origine del ceppo, di valutare molto bene la sua conservazione e anche il numero di passaggi. Questo è un aspetto molto molto importante. Allora, per quanto riguarda il concetto di origine abbiamo capito, c'è un discorso di tracciabilità che è garantito appunto da chi costituisce la ceppoteca, da questo ente internazionale che comunque controlla le informazioni. È comunque assicurata dal fatto che in un materiale, per definizione, può essere certificato, quindi accompagnato da un certificato che ne definisce puntualmente le caratteristiche e anche la quantità. Ecco, questo è un concetto molto importante che, su cui torneremo dopo, un materiale quindi accompagnato da un certificato che generalmente dà un'indicazione anche della quantità esatta, nei limiti, di cui si caratterizza. In questo certificato ci sono anche inserite delle informazioni molto importanti riguardo alla rivitalizzazione dei microorganismi. Abbiamo visto anche nel momento della definizione che il ceppo deve essere un ceppo rivitalizzabile. Quindi va da sé che all'interno di questo certificato sia comunque nota la modalità con cui il laboratorio deve operare per garantire una rivitalizzazione consona al batterio che sta gestendo, perché sappiamo che i batteri sono molto diversi, possono avere delle esigenze molto diverse e quindi vanno assolutamente garantite e assicurate. La conservazione. Allora, qui chiaramente il senso della conservazione di questo materiale di riferimento che viene in qualche modo tenuto, gestito da queste collezioni, ha lo scopo di inattivarli, cioè di sopprimere le capacità funzionali dei microorganismi in termini di crescita e riproduzione e di sintesi di metaboliti. Viene in qualche modo, vengono ibernati, passatemi il termine, proprio perché devono mantenere integre quelle che sono le caratteristiche che li contraddistinguono, perché la loro valenza come materiali di riferimento a questa, che siano sempre assolutamente riconoscibili e rispondono alle caratteristiche che li definiscono. Ora io ho portato degli esempi, ma dopo siamo qui con tutte queste aziende che sicuramente avranno delle opzioni alternative, ma comunque storicamente la conservazione in azoto liquido a meno 196 gradi, se non più, garantisce appunto una conservazione nella durata degli anni, è un'ibernazione vera e propria. Poi c'è la liofilizzazione che conosciamo benissimo, che ovviamente prevede un accongelamento preliminare a partire da una sospensione batterica e poi la disidratazione per sublimazione e questa è una modalità di conservazione molto diffusa che conosciamo tutti e permette una conservazione a lunghissimo tempo. Poi c'è il congelamento che ovviamente a seconda della temperatura impatterà con una durata molto diversa e poi la ProTech Technology, che è un approccio rispetto agli altri innovativo, ma stiamo parlando di approcci ormai già diffusi da tantissimo tempo, che sono quelli poi largamente adottati anche dalle CrioBank che vedete qui affigurate e sfruttano proprio le basse temperature e l'utilizzo di contenitori all'interno dei quali, oltre al mezzo di conservazione, sono inserite delle sferette di ceramica in cui i batteri vengono assorbiti in un certo quel modo e questo garantisce una gestione molto più spendibile per il laboratorio, nel senso che evita lo scongelamento in fase di prelievo. Quindi si può prelevare la famosa perlina e da lì, ecco, quindi anche questo ha avuto un gamma, ma sono tutte approcci diversi e sono sicura che ne esistano altri molto più innovativi perché chiaramente la tecnologia ha fatto passi davanti. Ecco, nella gestione di queste colture generate a partire da ceppo, da collezione, bisogna osservare una regola che è veramente basilare, che è quella dei cinque passaggi, ovvero bisogna assicurarsi nel momento in cui si prende in carico un ceppo nello stato di conservazione per portarlo alla crescita, per poterlo gestire, a non superare un numero di passaggi che sia superiore a cinque. Questo per mantenergli una stabilità, la sua stabilità genetica e quindi poi fenotipica, perché se incorrono mutazioni chiaramente queste si traducono a livello fenotipico in altro e questo non deve succedere. Cosa si intende per passaggio, per chiarezza, il passaggio per definizione è il trasferimento del microorganismo da una cultura vitale a un terreno fresco, quindi l'idratazione non è un passaggio, neanche lo scongelamento lo è, il passaggio lo diventa nel momento in cui il ceppo viene fatto crescere in un terreno e quindi prolifera. Ovviamente proliferare vuol dire cicli e vuol dire nella replicazione possibilità di mutazione, quello è il problema. Quindi nel gestire colture e assolutamente attenzione al numero di passaggi con un livello massimo che sia inferiore sempre a cinque. Anche qui ci vengono incontro le norme, una in particolare che è quella che ho indicato e che come vedremo poi, perché l'ho presa in carico perché è abbastanza informativa anche da altri punti di vista, questa norma ci dà dei concetti che riprendono questo tipo di problematica perché ci parla di reference stock dando come definizione quella di set di separate identiche colture ottenute da singole subculture originate da cepi di referenza sia in laboratorio che da fornitore, quindi è il passaggio preliminare. Lo stock culture, quindi subcultura primaria ottenuta da stock di referenza e working culture, quindi la cultura d'uso che abbiamo detto non deve superare quel numero di passaggi. Quindi appunto esistono norme ben precise che ci danno costantemente indicazioni di questo e di questo dobbiamo sempre ricordarci. Però al di là di quello che noi laboratorio diciamo utente a valle facciamo per garantire una corretta gestione, chi ci assicura che le caratteristiche di cepi di riferimento che noi andiamo ad acquistare soddisfino a monte le caratteristiche che devono soddisfare per essere tali? Anche qui entra in gioco una norma che è la 17.034 del 2017 che fissa i requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento. Quindi i primi a preoccuparsi sono questi, i produttori e i rivenditori. Ecco, allora la norma specifica, quindi i requisiti generali per la competenza e la costante e corretta operatività dei produttori di materiali di riferimento, quindi definisce i requisiti di conformità ai quali vanno prodotti i materiali di riferimento, è destinata all'utilizzo quale parte delle procedure generali di assicurazione e qualità degli stessi produttori, adesso vediamo cosa vuol dire perché non è proprio una passeggiata, e tratta la produzione di tutti i materiali di riferimento compresi quelli certificati. Quindi mi sembra chiaro. Il concetto è molto semplice, cioè il produttore deve soddisfare i requisiti tecnici riportati in questa norma lungo tutto il ciclo dell'intera filiera di produzione e distribuzione. Cosa significa? Io qui ho estrapolato dalla norma i paragrafi che mi sembravano più esemplificativi, ma è una bella norma succulenta se vi interessa per verificare i produttori e i rivenditori. Esiste? No, questi sono i punti più significativi perché danno idea effettivamente di quanto venga controllata la produzione nell'intero del suo procedimento. Quindi a partire dal controllo della produzione, quindi attraverso la verifica e dell'eventuale documentazione di tutte le fasi critiche che possono intervenire. Quindi il produttore e il rivenditore le deve dichiarare e le deve gestire, le deve prendere in considerazione e formalizzare. Poi la manipolazione e l'immagazzinamento ovviamente, quindi devono essere prese delle misure per evitare l'influenza delle condizioni ambientali che possono avere sulla qualità di questi materiali. Dopodiché tutti questi paragrafi che seguono. La conoscete la norma 17.025 ovviamente. Bene, allora questa norma 17.025 gli operatori secondo 17.034 la devono applicare per quanto riguarda le procedure di misura che applicano, la strumentazione di misura, l'integrità e la valutazione dei dati, la riperibilità metrologica di valori certificati. Tutta questa attività e molte altre ovviamente ho riportato quelle che potevano essere più diciamo condivise oggi vista la platea e anche l'ambito in cui lavoro. Quindi assolutamente soddisfacimento 17.025. Dopodiché tornano i due concetti che abbiamo visto prima in definizione. La valutazione della omogeneità e della stabilità non sono due concetti campati per aria ma nella definizione di materiale vengono fissati perché sono quelli che poi devono essere sempre garantite. Lo vediamo anche in questa norma. Infatti per assicurare e salvaguardare l'omogeneità, questo è un paio di punti che ho visto ma ce ne sono tanti, chiaramente attenzione nel momento in cui all'interno di un lotto vengono create più unità chiaramente. È un momento critico nelle grandi produzioni. Oppure nel caso di matrice eterogenee. Anche questo può essere una problematica da dover gestire per garantire l'omogeneità di quello che poi viene venduto. E poi anche il monitoraggio della stabilità in quelle che sono le fasi che potrebbero comprometterla. Quindi il confezionamento, l'immagazzinamento, il trasporto. Ci sono un sacco di capitoli che trattano solo di quello chiaramente. Direi quindi che per quanto riguarda la produzione e la distribuzione sicuramente questo è un materiale molto controllato. Però non è una norma che noi, laboratori accreditati, non possiamo considerare. Nel senso che la norma 17.025, come gli ispettori accreditati, visto che li abbiamo qua, ovviamente ci richiedono attenzione nel momento in cui noi andiamo a valutare una selezione di materiali di riferimento in fase di acquisto. Noi ci siamo presi una non conformità qualche anno fa, nel senso che non eravamo così raccomandazione, ecco, perché non eravamo stati così puntuali. Nel senso che nel momento in cui, forse abbastanza sensibilizzati, comunque adesso lo siamo a quanto pare, ecco, però praticamente nel momento in cui il laboratorio accreditato si approccia all'acquisto, deve ponderare con un criterio di scelta che è quello che vedete dalla freccia, quindi a partire dall'opzione 1 fino all'opzione 5, che è fase di disperazione assoluta, deve scegliere tenendo presente che esiste questa norma 17.034. Quindi in primis deve cercare materiali di riferimento che siano accompagnati da certificati emessi sotto questo accreditamento oppure emessi da centri di referenza nazionali o internazionali. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare questo requisito, allora si può passare alla fase 2, opzione 2, quindi accompagnati da certificati non emessi sotto accreditamento, ma forniti da produttori che operano e accreditati sotto quella norma. Il terzo caso è che non ci sia accompagnamento di certificati emessi da produttori accreditati, però dichiarano questi produttori di operare, quindi è una fase un po' borderline, fino ad arrivare al caso in cui non ci sono certificazioni, in quel caso là è il laboratorio, l'utente, che deve in qualche modo autocertificare il proprio materiale, in modo tale da dargli quella dignità, passatemi il termine, e quel supporto che gli manca dal fatto che non esiste però siamo veramente ai minimi, è difficile arrivare lì, o ci si arriva nel momento in cui subentrano delle manipolazioni. Ecco, una cosa che viene imposta è che sia solo anche una diluizione o ovviamente l'estrazione di un DNA da un ceppo per farlo diventare da PPC a PTC, PPC è Process Control di estrazione a PTC, che sarebbe il controllo di amplificazione, noi produciamo nel nostro istituto, ma lo farete anche voi accreditati, un modello che è una dichiarazione di idoneità a fronte di un rapporto di prova che indica che le caratteristiche comunque vengono mantenute rispetto al target che rappresenta il materiale di riferimento, quindi nel momento in cui viene manipolato, quindi anche una semplice diluizione, attenzione, lo dobbiamo autocertificare, ma questa è una gestione interna che poi si fa del materiale di riferimento. Qua si sta parlando proprio di fase di acquisto. Ora, le applicazioni. Ovviamente questi materiali di riferimento hanno un ampio utilizzo, un ampio utilizzo che, come vedete da tutte le opzioni che ho elencato, spaziano, quindi dal test di fertilità e selettività sui terreni di cultura, al controllo dei sistemi di identificazione batterica, quindi in particolare io ho voluto stressare il concetto di validazione, assicurazione di qualità dei metodi perché è imprescindibile per un laboratorio accreditato, challenge test, test di promozione di crescita, qui in ambito farmaceutico forse è più presente questo tipo di applicazione, la verifica dell'attività di sostanze batterico-batteriostatiche, l'efficacia antimicrobica, la verifica di efficienza di filtri, sono tutte applicazioni ma ce ne sono molte altre. E diciamo che in tutte queste applicazioni il fatto di disporre di materiale che abbia delle caratteristiche ben definite anche in termini quantitativi, adesso vedremo perché dico questo, ma è evidente, è effettivamente molto utile. Ora io per ragioni di tempi e anche perché forse dal mio punto di vista per un laboratorio che opera nell'ambito di diagnosi microbiologica, questi primi due, ho pensato di approfondire questi primi due aspetti. Quindi per quanto riguarda il primo, l'utilizzo nei test di selettività e fertilità dei terreni è un'attività molto importante che deve essere fatta da un laboratorio che opera in questo tipo di settore. Anche qui in ambito alimentare ci viene incontro la ISO che vedete, di cui aveva anche parlato prima la nostra collega, che io ora riprendo perché effettivamente è una ISO che definisce i termini relativi all'assicurazione e qualità dei terreni culturali e specifica i requisiti per la preparazione dei terreni, destinati all'analisi microbiologica in tanti contesti. Quindi fissa e definisce quelli che devono essere i controlli di performance microbiologica di tutti i terreni di cultura. Chi sono i destinatari? Allora, i destinatari sono le aziende che producono e vendono i terreni, le organizzazioni non commerciali che forniscono terreni a parti terze, ma siamo anche noi laboratori che prepariamo i terreni per uso interno e quindi in questo caso sono previsti, se vi leggete la norma dei controlli che sono un attimo più contenuti, chiaramente. Quindi però ci danno la possibilità di mettere in opera delle modalità per assicurare la qualità dei terreni che utilizziamo quotidianamente. Allora, nei controlli di performance previsti da questa ISO, i criteri di valutazione, per criteri di valutazione intendo la produttività, la selettività, la specificità, i metodi, siano essi quantitativi che qualitativi, i microrganismi test da utilizzare, perché vengono presi in rassegna puntualmente, molto precisamente, sono definiti in base alle caratteristiche di ciascun terreno di cultura, quindi al suo stato fisico, che sia brodo che sia agar, la sua composizione, la sua finalità più che composizione, quindi selettivo, non selettivo, e la fase, quindi arricchimento piuttosto che diluizione, ricerca e conta. Questa norma è una norma molto interessante e anche alla fine fruibile, grazie al fatto che presenta degli annex, degli allegati, ma dal mio punto di vista chiaro, non so se mi sono dovuta abituare, purtroppo, non lo so, però, sono tabelle appunto, una in particolare, vi presento poi lo screen, perché effettivamente è abbastanza indicativa, e presenta appunto le associazioni fra tutte le tipologie di terreni e le tipologie di controlli, in riferimento puntuale a tutte le varie norme tecniche, per norme tecniche intendo protocolli applicativi per la determinazione o diagnosi di un particolare microrganismo. Ovviamente in questa, vedremo che in questa, diciamo, approccio, sono previsti livelli di inoculo molto specifici e a volte anche ridotti, puntuali comunque, e controlli completi, quindi richiede un'applicazione in toto di tutte le indicazioni che vengono fornite da ogni associazione, chiaramente terreno, criterio valutativo, anche in termini di ceppi. Quindi, questi livelli di inoculo molto bassi, che vedremo poi presenti, fanno sì che la possibilità di utilizzare appunto del materiale che sia puntualmente quantificato e magari anche a livelli spendibili poi nel momento delle direzioni è ovviamente molto utile. Allora, questa è la famosa annexe di cui vi parlavo prima, che consta di numerosissime tabelle ed è molto schematica, ma si vede molto chiaramente che il riferimento ad un metodo, qua vediamo quello della 1192, che è quella riferita all'identificazione dell'isteria monocitogenes, si fa riferimento ad un terreno che è l'agar listeria, il target è listeria monocitogenes, che è quello appunto del metodo, oddio, scusate, il metodo interno, il metodo normato, scusate, che definisce l'applicazione. Poi, in riferimento alle varie criteri, quindi produttività, selettività o specificità, vengono indicati quali ceppi devono essere utilizzati e notate che in riferimento al ceppo viene dato il famoso numero VDCM, di cui dicevamo, parlevamo prima, quindi alla fine nell'applicativo sapere che si tratta di quel numero ci garantisce, nel senso che noi si acquisti questo ceppo dalla ceppoteca inglese, piuttosto che giapponesa, che spagnola, dopo il filo conduttore e la normalizzazione di queste informazioni passa attraverso questo numero che comunque viene riportato nelle isotecniche applicative. E in funzione appunto di questi vengono dati appunto le modalità di gestione in termini di incubazione, temperatura di incubazione, mezzo di terreno utilizzato, vengono dati i parametri poi valutati e poi anche le diciamo sono caratteristiche che ci si deve aspettare dal punto di vista morfologico della crescita sui talleni laddove è prevista chiaramente perché in un test in cui non deve essere prevista la presenza chiaramente non ci sarà nulla. Ecco io vi invito a dare un'occhiata a questa ISO perché effettivamente è utile nel senso che è richiesta perché anche qui nelle visite ispettive da noi sempre fanno il controllo nel centro di produzione dei terreni che rifornisce tutte le nostre sedi e il controllo che tutto venga fatto secondo quanto indicato da questa ISO è perentorio proprio. Comunque è molto utile perché voglio dire è molto indicativa e fruibile. Per quanto riguarda invece l'applicazione nelle attività di validazione dei metodi anche qui l'utilizzo di materiale certificato chiaramente non è obbligatorio assolutamente però può essere molto utile e adesso vediamo perché. Allora innanzitutto un piccolo pillola di definizione anche qua non mi invento ma ho riportato dalla serie 16.140 ne abbiamo ben sei adesso quindi ci possiamo dilettare senza inventarci niente. Allora i colleghi della sanità animale di solito ci guardano con pietà come dire però alla fine devo dire che almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire. No voglio dire è importante perché sennò nel tempo si rischia di andare alla deriva perché quando non c'è un'informazione chiara ognuno poi la tende a interpretare a modo suo e alla fine un metodo che magari in un multistito come il nostro deve essere approcciato allo stesso modo se non c'è una norma iso che ti sta alla fine chiaramente nel tempo porta a una differenziazione di approcci che non va bene perché alla fine il rapporto di prova dà un esito che deve essere univoco soprattutto se il laboratorio è dichiarato come unico ma comunque al di là di quello che può essere il problema in un multistito io penso che sia un problema condivisibilissimo nel senso che quando si parla di approcciare con un metodo che è una norma iso quella deve essere uguale per tutti quindi bisogna essere molto chiari a partire dalla validazione o verifica. Qual è la differenza dell'approccio? La validazione è l'attività che il laboratorio mette in atto quando valuta le capacità, le performance del metodo quindi è la determinazione delle caratteristiche di prestazione di un metodo ed emissione di evidenze oggettive che dimostrano che i requisiti di prestazione per una specifica destinazione d'uso sono soddisfatti che è la frasetta che poi in tutte le dichiarazioni di validazione mettiamo con soddisfazione quanto è andata bene tra parentesi ecco i nostri modelli di dichiarazione quindi qui sotto processo ci sta il metodo diversa è la verifica delle prestazioni lì sotto la lente ci finiamo noi con le nostre capacità di fare cosa di prendere il metodo validato da qualcun altro e riprodurlo fedelmente a casa nostra ecco quindi infatti viene definito come la dimostrazione che un metodo validato funzioni nelle mani dell'utente secondo le specifiche del metodo determinate nello studio di validazione ed è idoneo allo scappo previsto ecco allora le tecniche diciamo gli approcci più che tecniche utilizzati per la validazione o verifica di un metodo in senso lato passatemi il termine ma in generale questo è un discorso molto generale possono prevedere approcci molto diversi può essere una valutazione sistematica di fattori che influenzano i risultati questo sto parlando di filosofia verifica della rebustezza del metodo di prova mediante variazioni i parametri confronto con risultati ottenuti comunque tutti questi approcci passano poi attraverso la valutazione di parametri ben specifici sono parametri che in ambito microbiologico poi in ambito chimico parliamo di altro ma prevalentemente ruotano intorno al concetto di load che è il limit of detection che può essere 50 95 seconda che sia il 50 per cento 95 per cento di positività lock limit of quantification se si tratta di metodo quantitativo specificità che passa attraverso la valutazione della inclusività cioè della capacità del metodo di prendere e riconoscere tutto ciò che rientra nel target ed esclusività al contrario cioè la capacità del metodo di escludere nell'esito positivo tutto ciò che non deve essere incluso quindi esclusività escluso ripetibilità stretta largata media grande le small medium lascia di tutti i tipi a seconda e esatto le taglie ci sono riproducibilità e quant'altro per non allontanarci dall'enorme iso che comunque ripeto ormai oddio va bene allora vado veloce allora ho preso queste definizioni da alcune iso ma sappiate che ce ne sono sono un po dappertutto sono fiorite quindi la 22 184 per chi non lo sapesse fissa i definì le definizioni performance che deve avere un metodo molecolare in pcr per essere applicato in ambito diagnostico alimentare e poi la varie serie 35 34 1 è una sorta di vocabolario allora per andare al sodo senza perdermi una definizione in sé ripetibilità riproducibilità limit of detection io quello che ho voluto stressare è il fatto che comunque si parla di fare qualcosa quindi riprodurre la ripetibilità quindi condizioni strette riproducibilità allargate su identical test items ok lo si dice qua lo si dice nella nel caso della riproducibilità ricondizioni items stiamo parlando di test microbiologici destinati all'identificazione di patogeni quindi un items è un alimento è un campione in questo caso un alimento contaminato con qualcosa io devo eseguire un'attività di validazione o verifica testando repliche di campioni che devono essere identici con qualcosa dentro che sia sempre uguale non è banale per chi poi deve fare questa cosa anche perché poi quando si parla di lowest concentration of content of target organism questa lod poi viene mirata per andare a contaminarli come vedremo in qualche esempio che vi porterò insomma in tutto questo mare magno di approcci per la validazione vengono eseguite delle prove in cui viene verificato l'effetto della variabilità di condizioni specifiche quindi di ripetibilità riproducibilità sulle prestazioni del metodo fatta salva la stabilità del target e l'accuratezza degli specifici livelli inoculo previsti dal protocollo quindi l'utilizzo di microorganismi che siano standardizzati e soprattutto ben quantificati può venire in aiuto vi faccio un esempio questa è l'ultima nata la 16.140 parte 3 2021 che ha colmato un vuoto normativo per fortuna dico io perché non c'era una norma che definiva in ambito microbiologico come portare a termine la verifica delle prestazioni e questo finalmente è arrivata no allora è arrivata al paragrafo 5.2 ti dà l'approccio dal punto di vista del disegno sperimentale che il laboratorio può scegliere di operare allora lasciamo perdere il 2 che si usa quando l'uno non è andato a buon fine ma comunque i protocolli come vedete possono essere l'uno o il tre cosa prevedono prevedono l'esecuzione di 10 repliche togliamo il bianco 9 oppure 8 repliche oddio no 8 8 repliche che devono essere realizzate mirando attenzione con il protocollo 1 la lod e sappiamo che la lod può essere 1 o 2 cfu per test portion divertente 3 volte la lod o no oppure se uno opta per il protocollo 3 che potrebbe sembrare più semplice da 3 a 5 non è una passeggiata assolutamente quindi voglio dire perché poi cosa in cosa consiste nel mirare questo questo partendo da una cinquantina decina una serie di diluizioni repliche esattamente identiche di queste matrici contaminate a questi bassissimi livelli per andare a soddisfare qua ho evidenziato in giallo quello che il protocollo 3 prevede cioè se sono attesi 7 positivi almeno 6 ora se non ne vengono 6 i problemi possono essere di varia natura può essere stato l'operatore può essere stata la condizione ambientale ma può essere anche che in origine chi ha incontaminato poveretto aggiungo io non ha affatto non è stato semplice replicare sette volte una contaminazione da 3 a 5 cfu e quindi il negativo ci sta e non è un caso arco la miseria non è il caso non è un caso che appunto la norma preveda anche l'utilizzo di materiale di referenza certificato perché parto da 50 viva dio se parto ovviamente sono più aiutato in questa fase ora sono gli ultimi due slide serena verena serena ecco esatto allora da qui richiamo in questo nell'enorme iso che più disciplinano l'argomento quindi la serie 16.140 questa è la parte 3 al punto contaminazione artificiali da la selezione dei ceppi da delle opzioni non è perentorio l'utilizzo di materiale certificato perché si parla di culture da collezione anche del diciamo user laboratori quindi fatte in casa però da anche la possibilità di utilizzo di materiale certificato incluso quello commerciale chiaramente e con no concentration chiaramente perché è conscio del fatto che vanno chiaramente mirati quei livelli ci mancherebbe e questo anche nella altre norme per esempio qui ho riportato la serie 2 che è del 2016 nell'annex b in cui descrive molto bene come allestire un campione naturalmente o artificialmente contaminato come quarta opzione le altre tre riguardano l'utilizzo di ceppi chiaramente si può fare tutto è per carità chiaro che un laboratorio deve fare i conti con le proprie risorse in termini di expertise intanto perché bisogna essere capace di fare certe cose di tempi mettere in preventivo di doverle rifare poi le prove perché ovviamente una verifica di inoculo che la iso prevede ti descrive di dover portare avanti insieme al campione peccato che l'esito lo sai il giorno dopo quindi dopo aver allestito la prova aver fatto partire scopri che non eri stato da tre a cinque perché erano nove ti spari cioè cosa fai cioè nel senso se sono nove potrebbero essere cinquanta no è vero non è banale ecco non è banale e appunto anche un altro esempio è quello della parte 6 anche questa è una norma interessante per la validazione dei metodi di conferma e tipizzazione rispetto ai metodi di riferimento e qua dice appunto di utilizzare tranquillamente culture da collezione e quindi da collezione vuol dire certificate o altri approcci e poi richiama interessante l'utilizzo della 11.133 per la mantenimento dei famosi stack culture che vi dicevo prima quindi ok compratevela ma gestitela come dio comanda altrimenti non è quindi si chiude il cerchio e lo chiudo anch'io chiarissima io mi stupisco sempre come come fate a parlare di cose così complicate in modo così chiaro e spero chiaro comprensibile grazie a tutti 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 grazie a tutti